Ha peccato! Deve essere la fidata! Ha peccatrice! Ma va! Ha scolpevole! Adultero! Ha intradito tuo marito! Ha morito! Muore! A tempio! A tempio! Finite! Dobbiamo giudicare questa peccatrice! Che cosa succede? Ha peccato! È un'adultera! Deve essere punita secondo la legge! Portatela dal maestro! Via! Via! Capito! No! Fermi! Avanti! Fermi! Un momento! Maestro, che dobbiamo fare? Questa donna è stata accolta in flagrante adulterio! La legge di Mosè dice di lapidarla! E tu, cosa dici? Rispondi maestro! Cosa dobbiamo decidere? È una peccatrice! Dobbiamo lapidarla! Chi fra di voi è senza peccato, scagli la prima pietra! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! La legge di Mosè è stata accolta in flagrante! Andiamo. Dove sono i tuoi accusatori? Non c'è più nessuno che ti voglia condannare. No, no, nessuno. E neanche io ti condanno. Va, e non peccare più. No, no, nessuno. No, nessuno. No, nessuno. No, nessuno. No, nessuno. No, nessuno.